ciao a tutti benvenuti e bentornati nel canale allora 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 un po di tempo fa su instagram ho fatto una specie di sondaggio e ho deciso di fare il video praticamente la versione di i follower comandano la mia vita per un giorno però in versione the sims quindi in pratica sto per fare quello che mi avete detto voi allora i follower comandano i miei sim per questa partita allora registro col microfono e sarà un pochino lungo ve lo dico già quindi non lo so come editerò poi questo video ma penso che qualcosa farò allora avete scelto tra una coppia normale e una donna con due uomini ovviamente la coppia con due uomini quindi io adesso vado a fare la prima donna ovvero la nostra lexi perché avete scelto lexi tra i due nomi che vi ho proposto che erano lexi e roxy allora allora intanto la andiamo a creare cerco di non metterci troppo perché se già ci metto troppo tempo a crearla è la fine allora si chiama lexi così il cognome scriviamo jt che sta per youtuber facciamo così ok andiamo a personalizzarla dunque capelli allora vediamo un po perché si blocca anche no è io spero ragazzi che non vengano dei bug in questa in questa registrazione perché ogni tanto me lo fa questa questa versione non c'è ancora stato un aggiornamento e ogni tanto viene lo schermo nero e poi dopo un po si riprende però io non posso sempre interrompere la registrazione quindi un po' un casino è molto lento quindi allora volevo fargli stranamente un'acconciatura corta perché ne avevo sbloccate di carine e per farla un po' diversa allora c'è questo chignon che non è niente male però io avevo in mente di farla se ne trovo sentiranno i tac che faccio sullo screen ok avevo intenzione di metterci questa capigliatura che mi piace molto e magari di farla proprio un po particolare oppure di metterci quelle ancora più nuove che sono mi pare qua sotto i ricci così tanto ricci non mi piacciono quindi potrei mettere se no questa così però non mi piace tantissimo così riccia non mi piace queste sono carine ma non è tanto corte come le volevo allora direi di andare su quelle che avevo detto prima allora dove sono i capelli che avevo scelto prima eccoli qua ci sono tutti questi colori e magari la faccio rossa così o blu non vi posso far decidere tutto perché ovviamente non è che ho fatto tutto 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 dei sondaggi comunque lo facciamo rossa e come viso così non mi piace così più o meno ma si mettiamola così poi vi ho fatto scegliere se l'abbigliamento doveva essere elegante serio sexy oppure stravagante e particolare e voi avete scelto elegante e sexy quindi andiamo a fare una ragazza una signora una donna insomma un po elegante allora vediamo un po' nei completi belli allora questo direi che è abbastanza sexy però so che ne avevo sbloccati di a di nuovi allora dove sono questi vestiti allora oh ma che cavolo beh questi sono molto eleganti non so se metterci uno di questi molto eleganti oppure uno di quelli che vi ho fatto vedere prima però magari visto che avete scelto elegante ne metto uno così devo solo vedere un po il colore perché questi qua questi non posso usarli ok o un rosa pesca così o questo colore oppure il grigio ne facciamo grigia dai mettiamo la grigia ok e lei è creata ora vado a creare i due uomini i due uomini avevano due possibilità di nomi che poi vi lascio tutto nel video e ho scelto avete scelto anzi eitan e col e adesso andiamo fare anche loro avranno uno stile molto sexy molto elegante molto serio insomma devo cambiare casa per creare un altro film purtroppo però devo fare così ok andiamo da maschio crediamo creiamo primo eitan anche qua cognome jt e lo facciamo creiamo insomma allora pelato no vi prego pelato no quindi andiamo a scelterci una capigliatura sexy e quale potrebbe essere allora o questa che non sta male oppure mi piace molto quella più che c'è più avanti che vi faccio vedere subito se la trovo invece molto perché ai capelli un po mossi insomma sopra se la trovo perché come ho detto è molto lento ok anche questa questa che mi piace in queste colorazioni ma direi di metterlo castano scuro e ita cambiamo il colore degli occhi glieli faccio verde guardate che bello la barba gliela lascio perché mi piace vado a cambiargli l'abbigliamento praticamente perché non è molto sexy e non è molto serio e normale abbastanza casual il problema è che dei maschi robe sexy non è che ne abbiano tante quindi vediamo potrei optare per una camicia così magari e un pantalone elegante o un jeans adesso vedo perché qua come ho detto non è che ci siano scelte molto eleganti un jeans chiaro beh non è male così oppure così certo non è molto elegante però pazienza cambiamo scarpe perché gli scarponi tipo da montagna anche no mettiamo questi mocassini chiari scuri come li mettiamo li mettiamo blu sperano che non ci siano neri vabbè li mettiamo blu e ok e anche etan è stato creato ora dobbiamo andare a creare col col sarà l'altro uomo della nostra lexi anche qua devo andare in un'altra casa e creare poi li mettiamo tutti insieme e poi facciamo anche la casa c'è un bel lavoro da fare allora dove una casa vuota oddio la casa vuota ok questa per esempio creiamo un altro uomo e lo chiamiamo col col che lo facciamo un po più scuro di pelle dai così cambia un pochino volevo scriverli grandi ma un cengono col jt sempre ok anche lui mettiamoci dei capelli carini vediamo un po magari che li faccio lunghi a lui in un taglio un po più lungo non so visto che l'altro è scuro lui ho pensato di farlo magari più chiaro e avevo pensato a questa capigliatura qua ovvero tipo con la mezza coda biondo così non mi piace tantissimo così forse è un po meglio sì dai è un po meglio lui gli occhi glieli faccio azzurrissimi magari questo azzurro ghiaccio proprio che ti uccide perché poi c'è il blu e l'azzurro più chiaro però non lo so no beh sta bene così ok sta bene così facciamo una forma del viso leggermente diversa così è un po più orientale così sembra arrabbiato però con la barba non mi piace tanto lo faccio così dai un po orientale gli metto un orecchino dove sono gli accessori gli metto un orecchino questi sono un po pacchiani questi sono peggio questi piercing va bene questi piercing anche se la faccia non è che mi convinca però vabbè lasciamo lì così maglie anche qua avevamo sempre le solite però magari vado a metterci un c'erano delle camicie un po aperte che erano leggermente più sexy tipo queste qua c'è bianca a quadrettini rosa così io a fiori direi di optare per il bianco o giallo anche anche giallo non è male mettiamoli di gialli pantaloni direi neri normalissimi e scarpe non lo so vediamo cosa possiamo metterci oddio calzini proprio troppo sexy le ciabatte molto sexy no direi di no questi stivali fanno pandan con la giacca però magari evitiamoli mettiamoci delle scarpe normali nere e gli dirico cioè direi di metterci anche un tatuaggio sulla mano magari così si vede e gli metto questi tribali ok ok dai sono abbastanza sexy sono pronto per andare a fare conquiste ok adesso avevate anche detto che loro dovevano avere una casa ben fatta quindi andiamo a creare una casa ben fatta e devono avere un cane un cagnolino allora andiamo andiamo a vedere se riusciamo a creare questa casa penso che starò zitta durante la creazione della casa così velocizzo il processo perché altrimenti viene un video di non lo so quanti minuti troppi troppi minuti però se velocizzo non posso togliere l'audio diciamo se no viene la vocina tipo da alieno e quindi il disastro allora eccoli qua i due uomini e la nostra lexi li sposto un pochino ah già qua hanno già da fare pulizia perché i vecchi coinquilini mi hanno lasciato i piatti sporchi questo non si fa coinquilini dovete lavare i piatti o buttarli nel caso traslocchiate qua c'è un gattino abbandonato poverino guardatelo guardate poverino e triste mi dispiace adesso avrai dei padroni perché non ti traslocherò quindi avranno anche un gattino mi sa ok bene ragazzi da questo momento in poi si fa la casa ben fatta grazie a tutti 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 grazie a tutti